Il 26 maggio giovedì, una buona giornata da chi vi parla e da Massimiliano Chiocchio in regia. Prima edizione del telegiornale che apriamo con la protesta dei pescatori armatori a Termoli che si allarga. È bloccato per due ore l'accesso al porto. La marineria è esasperata, i costi per lavorare sono altissimi. Una situazione è diventata insostenibile. Ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo. Senza risposte non riprenderanno il largo, le barche restano in porto, la protesta non ha scadenza. I pescatori e gli armatori hanno presidiato per due ore il porto di Termoli all'altezza della rotonda della Paranza, area off limits. Una manifestazione autorizzata, il prezzo del gasolio cresce, i costi per la marineria si fanno sempre più alti. Lavorare è diventato impossibile. Esasperazione e disperazione attendono le risposte del governo e di tutte le altre istituzioni. Chiedono sostegno, risorse che possano almeno tamponare la crisi. Non ne possono più. Il settore della pesca soffre, così anche l'intero indotto non può non risentirne. Armatori e pescatori sempre più sul piede di guerra. Stiamo facendo questo segno di protesta sperando che qualcuno ci cominci a dare un poretta perché questi altri giorni non abbiamo avuto nessuna concreta risposta da nessuna forza politica che ci interessava. Abbiamo notato che pian pianino si sta estendendo per tutta l'Italia veramente questo sit di protesta perché effettivamente stiamo, credeteci veramente, che siamo in difficoltà. Con il prezzo che è salito di questo carburante veramente arranchiamo sia noi che i nostri dipendenti ad andare avanti. Non ce la facciamo proprio più. E vediamo adesso l'ultimo bollettino sul Covid diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria regionale. Da registrare ancora un decesso, un uomo di 92 anni di San Felice del Molise, morto poco dopo il ricovero in malattie infettive. Calano i nuovi contagi che sono 61 su 726 tamponi refertati, tasso di positività all'8,4%, 308 i guariti. Ci sono poi due ricovidi nel reparto anziano fragile ma anche due dimessi da malattie infettive. Attualmente sono 15 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Scendono a 3.932 gli attualmente positivi nella nostra regione. Dei nuovi contagiati, il numero più alto a Campobasso con 10 casi. L'amministrazione Castrataro non mantiene gli impegni. Il durissimo attacco viene da Tiziano Di Clemente, coordinatore regionale del Partito dei Comunisti. che accusa il sindaco di Sernia per non avere ancora abolito i parcheggi a pagamento, come promesso più volte. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Per cui l'amministrazione di Castrataro non ha il coraggio di rimuovere i disastri fatti dalla precedente giunta di destra. Che la vicenda a strisce blu fosse stata una delle colonne portanti della campagna elettorale di Piero Castrataro è noto a tutti gli Sernini, non solo a Tiziano Di Clemente, che ha espresso così tutta la sua delusione. Ma quella promessa di abolirle o quantomeno ridimensionarle ancora non è stata mantenuta dal nuovo sindaco di Sernia e sono sotto gli occhi di tutti i guasti provocati da un contratto che non c'è, o che, meglio, non è stato rispettato dal concessionario che si era impegnato non solo a gestire la segnaletica, ma anche ad attivare i parcheggi sotterranei, come quello emblematico di Via Berta, con un divieto di sosta completamente immotivato, visto che lo stesso parcheggio non è mai stato messo in funzione. Le multe arrivano, ma ingiustamente, e potrebbero essere tutte contestate, perché quel divieto è collegato direttamente all'attività del parcheggio sotterraneo. Ma da Palazzo San Francesco nessun segnale, il divieto resta, il parcheggio non funziona e il concessionario continua ad incassare i proventi dei parcheggi. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare in sintonia d'onda con questa nuova amministrazione, anche per quanto riguarda le strisce blu. Loro devono prendere atto che non c'è un contratto, quindi la Gmobilità a che titolo sta riscuotendo, sta pretendendo e imponendo questi ticket ai cittadini. Oltretutto vediamo parcheggi dei disabili senza segnaletica orizzontale. La segnaletica orizzontale era a carico della Gmobilità, non è stata fatta, i canoni non vengono pagati. In pratica la Gmobilità prende solo dai cittadini di Segna per un servizio che poi non è un servizio, quindi vengono imposti ticket senza che ci fosse neanche un atto propedeutico, cioè la delibera di consiglio, l'ordinanza e la delibera di giunta, per cui l'amministrazione deve solo prendere atto che manca il contratto, deve inibire l'attività ed anzi noi vogliamo che la Gmobilità restituisca i ticket ai cittadini, visto che ha anche i numeri di targa, perché ripeto, li sta riscuotendo senza titolo e del resto le sentenze numerose dei giudici di pace hanno affermato proprio questo. Torna domenica prossima con una passeggiata direttamente in campo dal primo mattino, la nuova edizione di Planta Tour, evento organizzato a Bagnoli del Trigno, dal Centro Studi Cosmo de Orasis e dall'Associazione La Chiave della Salute. La partenza è prevista alle 7.30 dalla Domus Area, diverse le tappe alla scoperta di caratteristiche, proprietà e curiosità riguardanti piante del territorio sotto la guida di dieci esperti, previsti momenti musicali e culturali durante il tragetto, come quelli con il narratografo Stefano Di Maria. Nella mattinata anche la colazione contadina e la dimostrazione di come si costruisce uno stiglio, il cumulo di fieno dei contadini. In programma anche un pranzo caratterizzato dalle erbe officinali e la visita guidata agli stabilimenti dove si realizzano fito preparati. E questa sera alle 19 nel cortile di Palazzo dell'Ellis Vetrecca, Radici nella Terra presenta la raccolta di poesie a ogni stazione del viaggio di Loretto Raffanelli. Di Auleguerano insieme all'autore Valentino Campo e Paola Pediconi. E questa sera il consigliato d'appuntamento con la trasmissione Il Molisano alle 20.50 su Tele Molise. Si parlerà di Becari all'italiana in un concetto moderno di panetteria in cui la tradizione convive con l'innovazione. I fratelli Francesca e Feliciano Antedomenico ci racconteranno l'evoluzione della panetteria Becari Cianciullo in Parco dei Pini a Campobasso e del legame con gli Elzi dove tutto è nato nel 1967. Una storia familiare, la tradizione del pane, della pizza, dei dolci e anche adesso di piatti tipici molisani. L'appuntamento dunque con il Molisano condotto da Tonino Danese lo ricordo questa sera alle 20.50 su Tele Molise. E con questa notizia ci fermiamo. Adesso uno sguardo ai quotidiani locali e ai nazionali. Siamo sul web sul giornale del Molise. In evidenza il Covid, i dati, un decesso, 61 nuovi positivi e 308 guariti. Si parla anche di vaccinazioni per il Covid. Sabato evento a Campobasso per fare il punto su nuove strategie. La pagina politico-amministrativa, ENTI, la Giunta regionale rinnova Presidenti e Consigli di Amministrazione di FinMolise, Sviluppo Italia e Fondazione Molise Cultura. Torniamo ancora sulla pandemia, Covid. In due settimane dimezzati contagi e ricoveri. Quarta dose a rilento, l'azienda sanitaria telefona a casa degli anziani. Ancora sulla home del giornale del Molise. Calendario scolastico 2022-2023 si parte il prossimo 14 settembre. E ancora un appuntamento premio San Giorgio alla memoria di Giacomo Sedati. Alla cerimonia ci sarà anche Gerardo Bianco. Proseguiamo con primo piano. Questa l'apertura. Iorio oltre le coalizioni. Io candidato di tutti. Dunque si parla delle elezioni 2023. L'ex Presidente guarda anche alla centrosinistra. Va data un'opportunità al Molise. Credo di essere l'interprete migliore per incarnare questa esigenza. In alto ancora un contratto con il Governo nazionale per realizzare quello che Toma e Frattura non hanno fatto. Le altre notizie. Grande foto. Gasolio alle stelle. I pescatori bloccano il porto di Termoli. Da lunedì hanno fermato le barche. Ma nessuno ci ascoltano, detto. Stasera un flash mob. A fondo pagina omicidio de Cesare. Riesame. Il Tribunale del Riesame. Nuova istanza per la scaccerazione di Ialongo. Venerdì il GIP conferirà l'incarico per l'aperizia sui telefonini. La rubrica Il Punto porta alla firma del direttore di primo piano Luca Colella. 2023, scrive Colella, occhio alla Fanelli. Di spalla il bollettino ASREM. 308 guariti e appena 61 guariti. Ricoveri stabili. Il tasso all'8,4%. Restiamo in ambito sanitario. Più risorse annulise. Passa l'ordine del giorno dell'onorevole Federico. Andiamo al Veneziale di Sernio. Pronto soccorso in affanno. Disattese le promesse. Niente medici in supporto. E ancora i richiami. Da Campobasso. Eco stop nel centro storico. Cittadini esasperati. Senza modifiche alla segnaletica. Dicono prendiamo multe a raffica. Si parla anche del premio De Andrè. Praticamale della polemica sulle vignette di Vauro. Il sindaco come Ponzio Pilato. Ora sono un amministratore. Le notizie sportive. Sotto la testata. Campobasso. Campagna abbonamenti al Via. La società punta sulle famiglie. E vara prezzi popolari. Casa Vasto Girardi. Il presidente di Lucente. Dice per la salvezza. Occorre forza mentale. Fine il basket. La Magnolia Under 19. Pesca un girone molto difficile. Servirà un'impresa. Ci sposiamo adesso sui quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre dal Corriere della Sera. Zelensky accusa l'aiuto militare è insufficiente. Il leader ucraino a Davos dice Putin intanto visita i soldati feriti. Grano l'ipotesi di carichi scortati e navi cinesi. E poi ci sono queste drammatiche foto. Gli Stati Uniti e le armi. Shock per i 19 bimbi uccisi a scuola. Ne vedete alcuni. Biden intanto si scaglia contro le lobby. Quelle armi dice ora basta. Più in basso. I PM del processo Rubiter. Sei anni per Berlusconi. Dunque queste le richieste. Forza Italia insorge. Accanimento inaccettabile. Hanno detto Repubblica. Eccola qui. La mattanza dei bambini. Anche qui le foto. Il killer con il fucile d'assalto acquistato appena compiuti i 18 anni. Affreddato 19 studenti e 2 insegnanti. Mentre sparava diceva alle vittime state per morire. Per alcune il riconoscimento dopo l'esame del DNA. Intanto il Presidente Biden dice basta armi. Queste carneficine accadono solo qui. Non è in effetti la prima volta che accadono fatti del genere. Libero. Apertura politica. Il giuramento della Meloni. Giorgia delude la sinistra. Mai con PD e Grillini. La leader di Fratelli d'Italia risponde all'offerta indecente di Corriere e Repubblica. Formare un'alleanza con Letta non tradiremo le nostre promesse. Poi lo incoraggiamo. L'Ucraina accusa la Nato. Non fa nulla contro la Russia. Foto di Silvio Berlusconi. Caccia a Silvio. Chiesti 6 anni. Il caso Rubiter. E la PM anticavaliere perde il posto. Chiudiamo anche Libero. Siamo sul tempo quotidiano della Capitale. Partito dei disobbedienti. Si parla chiaramente del PD. Tra i Dem e Liberi Tutti. Ognuno va per conto suo pensando solo alla rializione. Zingaretti si schieda contro il termovalorizzatore voluto da Gualtieri. E qui si parla chiaramente di Roma. Poi sul referendum giustizia. Totalmente inascoltata la linea del segretario Letta. Il fatto quotidiano. Notizia correlata a Silvio Berlusconi. Perché si parla di Via D'Amelio. Indagare ancora su Forza Italia. Si parla dell'attentato a Borsellino. Mandanti esterni. Il GIP di Caltanisetta nega l'archiviazione ai PM. Politici e 007 deviati. Altre indagini su 32 punti. Compreso il partito che può aver concorso alla strategia della tensione. Il mattino quotidiano napoletano che festeggia 130 anni in nome del dialogo. E poi il titolo in evidenza. Tesori russi con fische dell'Unione Europea. Il pressing sui governi. Stretta sugli oligarchi. 300 miliardi di beni per ricostruire l'Ucraina. Donbass per piegare la resistenza. Mosca offre la cittadinanza. E Putin arruola anche gli over 40. Anche qui la strage in Texas. Il killer ha gridato. Bimbi state per morire. L'incubo americano. Il titolo in evidenza dell'edizione di oggi del manifesto. Un 18enne fa strage in una scuola nel Texas. 21 uccisi. 19 erano bambini. Dinamica identica a quella di Sandy Hook dieci anni fa. Biden dice sono stanco di questa carneficina. Appello dei democratici ai repubblicani. Aiutateci a fermare l'epidemia. Ma Trump va in visita alla lobby delle armi. Dal manifesto all'avvenire. La battaglia del grano. Il titolo di apertura. Mosca dunque via le sanzioni dicono. Riapriamo le esportazioni. Kiev un ricatto al mondo. Questa la replica. Bocciato intanto il piano italiano di pace. Il Papa chiede riconciliazione. Il nuovo presidente della CEI Zuppi. Mai abituarci alla guerra. Proteggiamo la vita. A centropagina questa foto. Naufragi e salvataggi. 76 dispersi. Siamo in tragedia in Tunisia. L'ONG Open Arms. Soccorre un barcone che si ribalta. Imprese come cambiano gli incentivi. Quanto si legge in apertura oggi sul Sole 24 Ore. Un focus sulle riforme in arrivo. Delega pronta. Riduzione drastica delle misure. Aiuti più facili ed efficaci al Sud. Di DL concorrenza. Alla Senato. Ultime trattative per l'accordo sui balneari. Vediamo anche il quotidiano di Confindustria. Passiamo alla stampa. Come possiamo vedere qui. Grande spazio con le foto di questi ragazzini. Uccisi. Cronaca di una strage annunciata. L'America sotto shock per l'assalto alle elementari. 21 vittime. 19 bambini. Paese ostaggio delle lobby, delle armi. Più in basso. Il no di Draghi ai ricatti di Putin sul gas. Bruxelles. Asset della Banca Centrale Russa per ricostruire Kiev. Mezzola. Milioni di persone. Alla fame. Dalla stampa alla verità. Qui si parla di altro argomento. Il traffico dei finti profughi. Sanatoria mascherata all'ombra del conflitto. Sono ucraini. In gran parte badanti. In Italia da tempo. E risultano clandestini. Ora escono dal paese. Vengono portati in Romania o Slovenia. E rientrano facendosi dare il permesso di soggiorno. con i benefici connessi. Reddito di cittadinanza eterno compreso. Più in basso. Occhi su Putin. Però intanto la Cina si pappa l'Italia con l'aiuto del PD. Non c'è paragone tra le infiltrazioni di Pechino e quelle del Cremlino. Ma nessuno ci bada. Scrive la verità. Neppure di fronte alle prove delle atrocità. Basta avere gli amici giusti. Il secolo d'Italia. Meloni. Per noi le parole hanno un valore. Mai col partito democratico. Dice la leader di Fratelli d'Italia. A fondo pagina. Berlusconi. Ce l'hanno ancora con me. Dopo tanto tempo. Ed è chiaramente un approfondimento sulle richieste per il processo Rubi-Terra. E adesso lo sport. Grande impresa della Roma ieri sera. Grazie Roma. Titola la Gazzetta. Che festa. La prima conference è giallorossa. Zaniolo gol. 1-0 al Feyenoord. Mourinho riporta un titolo europeo in Italia. 12 anni dopo la Champions interista. È storia. È stato detto. Vediamo che succede in casa Milan. Piano d'attacco. Ibra torna nel 2023. Obiettivo. Schamacca. Zlatan si è operato al ginocchio fuori otto mesi. Poi ingaggio a gettone. Caccia intanto al centravanti. Pressing sul sassuolo. E in arrivo c'è Origi. Di spalla. Telefono Pogba. La linea diretta del Polpo. Con gli amici giuventini. Prepara il grande ritorno. Parla anche di Dybala. Incontro. Oggi l'Inter formula la proposta di matrimonio. Bene. Come sempre con lo sport e la gazzetta. Terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo alle 14 la seconda edizione del telegiornale. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.